Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il Vangelo di questa domenica viene a metterci in guardia dal rischio di una malattia dell'anima che corriamo tutti, specialmente chi ha un incarico, un'autorità, una responsabilità nella Chiesa. Noi ne vedremo sintomi, cause e tre rimedi che ci offre Gesù. Gesù parla dell'atteggiamento di alcuni scribi e farisei, che hanno il ruolo di maestri, di guide, mettendo il dito nella piaga di una mentalità molto pericolosa. Gesù riassume il problema in tre punti. Primo, dicono e non fanno, e vivere con una profonda scissione tra ciò che si dice e ciò che si fa, tra la verità proclamata e la vita vissuta. Attenti, qui non si tratta di quelle piccole o grandi incoerenze nelle quali quotidianamente si può cadere, ma di vivere non integrati, non unificati, vivere una sorta di schizofrenia della realtà. Mie cari, non dobbiamo dimenticare che anche a livello educativo ciò che rende autorevoli e veramente credibili è la testimonianza di vita. Don Oreste Benzi diceva, ciò che sei grida molto più forte di quel che dici. Secondo problema, mettono pesi sulle spalle degli altri ma loro non vogliono muoverli neanche con un dito, cioè sono cavillosi, puntigliosi, pretenziosi verso gli altri ma l'assisti con se stessi. Hanno sempre da dire a tutti cosa dovrebbero fare ma loro non ci provano nemmeno, esercitando una forma di paternalismo logorante, di maestrineria asfissiante che non fa crescere, che esaspera, ignorando che, come diceva un autore, sii tu il cambiamento che vorresti vedere negli altri. Ma come si può vivere tutto questo senza avvertirne il disagio? Ecco il terzo problema. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini e Gesù elenca opere di autoaffermazione, di vanagloria, diciamole così, vestono in pompa magna, amano posti d'onore, saluti e plausi e sentirsi chiamare maestri o altri titoli altisonanti, facendo così anche del loro ruolo o dei titoli acquisiti oggetto di vanto e vivere una vita governata dall'ego, dove ciò che conta non è essere ma apparire, non essere qualcuno ma essere ammirati e pensare di colmare i propri vuoti o di risolvere le proprie insufficienze con il ritorno d'immagine, vivendo così schiavi di se stessi e del giudizio altrui. Il criterio diventano i like, i numeri delle proprie performance o iniziative anche pastorali, insomma il consenso. Papa Francesco a tal proposito ci ha detto la fecondità pastorale, la fecondità dell'annuncio del Vangelo, non è data né dal successo né dall'insuccesso secondo criteri di valutazione umana, ma dal conformarsi alla logica della croce di Gesù, che è la logica dell'uscire da se stessi e donarsi, la logica dell'amore. La brama di autoaffermazione, miei cari, può portare a vivere paradossi allucinanti, fare le cose anche le più belle e sante per avere ritorno d'immagine, oppure non rendersi conto che ciò che si sta facendo è sbagliato o comunque infruttuoso solo perché chi ho accanto apprezza o mi avalla, oppure non volersi sporcare le mani con situazioni marginali o complesse che potrebbero in qualche modo compromettere la propria presunta immagine. Lo capiamo bene, è vivere per sé stessi. Mi viene in mente un episodio narrato nel libro del piccolo principe. Il piccolo principe approdò in un pianeta, abitato da un vanitoso, che chiedeva sempre applausi e si gongolava nel riceverli. Ad un tratto gli cadde il cappello, dunque commise un errore, e il piccolo principe glielo fece notare, ma lui non rispose. La conclusione lapidaria dell'autore, così è per i vanitosi, sentono solo gli applausi. Ora, miei cari, tutto questo è un rischio serio e vivere una vita vuota, scissa, d'apparenza e non sapere neanche più chi siamo, perdere il senso delle proporzioni, vivere estranei alla propria coscienza e sordi alla verità. Dunque, davanti a questa sorta di nevrosi che spacca la vita e conduce a vivere nell'ipocrisia, Gesù ci offre tre sapienti rimedi, tre piste per lavorare su noi stessi. Primo, quando vediamo questo atteggiamento negli altri, fate ciò che dicono, ma non fate ciò che fanno. È un principio di maturità molto importante. Pensate ad esempio quante volte si dice io non riesco ad andare lì a messa, non accetto quello che mi dice quel sacerdote o questa persona perché ha questo problema, che ne so, con i soldi, con il carattere. Ora, è vero che certi atteggiamenti danno scandalo, purtroppo, ma Gesù qui ci sta dicendo una cosa più profonda. Traduciamolo in maniera molto plastica. Non buttare, amare, paglia e bambinello. Sappi prendere il buono che quella persona ti dice, sappi cogliere la verità che Dio ti sta dicendo attraverso quel fratello e non fare quello che fa. Dunque, avere l'umiltà di saper prendere la verità da qualunque parte arrivi, perché a volte noi non riusciamo a farlo a causa dei nostri giudizi o anche dei nostri pregiudizi che ci chiudono preventivamente a ciò che l'altro ci può dire anche se è vero e giusto. È molto importante, miei cari. Dio può parlarci attraverso tutti, specie attraverso chi ha il compito di annunciare la sua parola. Dunque, fate ciò che dicono ma non fate ciò che fanno. Secondo, Gesù ci ricorda non chiamate nessuno padre o maestro, cioè non assolutizzate nessuno e non assolutizzatevi voi. Dio non sono io, questo è il punto. Quando ci capita di innalzarci un po' troppo, tra l'altro, basterebbe pensare a qualche fesseria che abbiamo combinato per tornare subito con i piedi per terra. Vedete, il segreto per crescere e aiutare a crescere è l'umiltà. È un buon maestro che è anzitutto un buon discepolo, chi sa ascoltare, chi sa mettersi in gioco per imparare. È un buon padre che sa essere anzitutto un buon figlio, sa condurre chi anzitutto sa lasciarsi condurre. Ci farà bene chiederci, e io mi lascio mettere in discussione? So chiedere scusa quando mi rendo conto di aver sbagliato? Siamo tutti figli di un unico padre, ci ricorda Gesù. Potremmo dunque dire, cos'è che sostanzia la nostra vita? Cos'è che libera la mia vita, che mi renda autentico, capace di essere me stesso? L'amore del padre. Far esperienza in Cristo del suo amore, della sua tenerezza, della sua misericordia, e sapermi da lui guardato e amato sempre, e sapere che tu sei prezioso ai suoi occhi e degno di stima, ed è il desiderio di corrispondere a quest'amore che ti libera dalla dipendenza dallo sguardo altrui, e ti rende libero, libero di dire, libero di amare, libero di servire. E infatti, terza e ultima pista che ci consegna Gesù, chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Dove troviamo pienezza? Dove sta la felicità nel ritorno d'immagine? No, nel servire. Quando ami, vedi Dio in te, disse Sant'Agostino. E lì, nel servire gli altri, nel farti piccolo per fare grandi gli altri, nel prenderti cura degli altri, a partire dalle più piccole cose, che realizzi veramente te stesso. La vera grandezza è qui, la felicità è qui. Il più grande, nella prospettiva di Dio, è colui che si fa servo. D'altronde, come disse un sacerdote, se non servo, a che servo? Cari fratelli e sorelle, guardando Gesù, ecco il segreto per una vita piena, felice, libera. Vivere per la gloria di Dio, non per la nostra. Vivere per servire, non per farci servire. Sapendo che, come disse San Francesco d'Assisi, ognuno è ciò che è davanti a Dio, né più né meno, e che alla fine della vita Dio non ci chiederà quanti like abbiamo avuto, o quanti applausi abbiamo ricevuto, ma quanto abbiamo amato. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!